Buongiorno a tutti, credo che siate tutti connessi e che mi possiate sentire. Io vi do il benvenuto al secondo di questi incontri che stiamo organizzando come Università di Milano Bicocca per accompagnarvi nell'implementazione, nell'introduzione delle nuove linee guida sulla valutazione formativa, sulla valutazione descrittiva nella scuola primaria. Sappiamo che siete al lavoro, sappiamo che non è facile cambiare modo di operare all'interno della scuola. Sappiamo anche che questo cambiamento può essere davvero un'occasione di confronto fra colleghi, di ripensamento, di scelte che si sono fatte e che possono assumere un valore ancora più forte alla luce di questa forma di valutazione oppure che possono essere rivisti e riproposti in altro modo. Quindi crediamo su serio che sia una grande opportunità e nello stesso tempo siamo consapevoli dello sforzo che richiede in questo momento. Sforzo che riguarda aspetti molto diversi fra loro, di alcuni abbiamo parlato l'altra volta, tutto il tema della formulazione degli obiettivi e del ragionamento insieme ai colleghi di quali sono le priorità nella scuola, nella nostra classe, per quel gruppo di bambini o per quell'ambito disciplinare o in vista di quelle competenze, ma anche uno sforzo di ragionamento sulla coerenza fra la scelta degli obiettivi e la scelta delle proposte. Uno sforzo di costruzione di strumenti di valutazione anche diversi da quelli che siamo abituati a usare. Molti ci hanno scritto dicendo finalmente possiamo veramente fare quello che già stavamo provando a sperimentare ma che non aveva patria in qualche modo nella scuola dei voti. Altre persone ci scrivono dicendo che sono in difficoltà nel capire come valutare le singole prove o come trovare altri strumenti di valutazione. Questo è un percorso da fare con calma nel tempo, tutti insieme nel confronto con i colleghi. C'è un aspetto però che abbiamo voluto prendere in considerazione oggi e che riguarda la parte di comunicazione ai bambini o di comunicazione con i bambini. La valutazione molto raramente anche per quanto riguarda la ricerca ma soprattutto nel dibattito all'interno della scuola raramente si è soffermata a parlare dell'importanza del modo in cui noi diciamo ai bambini come li abbiamo valutati. Ci siamo preoccupati tantissimo di come valutarli, di che voto dare, quale altro simbolo, modalità, segno utilizzare per valutarli poco su come restituire a loro veramente il senso del percorso che hanno fatto. Ecco, un po' oggi credo che il tema messo al centro come oggetto di riflessione è questo e oggi vi parleranno di questo aspetto persone che stanno lavorando su questo tema da tempo insieme alle scuole, insieme agli insegnanti. Tra l'altro, ci tengo a ripeterlo, noi abbiamo fatto parte di una sperimentazione con il movimento di cooperazione educativa che è partito più di due anni prima rispetto all'approvazione della nuova legge che è stata approvata dal Parlamento nella primavera scorsa. In questa sperimentazione uno dei temi messi a fuoco è questo perché, lo ripetiamo, siamo in una prospettiva di valutazione formativa e quindi siamo nella prospettiva di una valutazione che ha come scopo quella di accompagnare il bambino, di aiutarlo a migliorare, di rilevare come sono cambiati, dicevamo l'altra volta, i suoi modi di pensare, di agire, di applicare, di rappresentare la conoscenza ma anche come io posso restituire a loro questo cambiamento perché diventi davvero un loro patrimonio, perché diventi un apprendimento significativo e duraturo. Guardate che il momento della restituzione è in sé un momento di apprendimento, per l'insegnante anche, ma soprattutto per il bambino. Voi potete consolidare quello che hanno appreso o anche integrarlo perché in quel momento il bambino che aveva appreso in modo intuitivo o iniziale o di prima applicazione riesce invece a dargli una forma che sistematizza quell'apprendimento. E questo è un lato del problema o della questione. Un altro lato della medaglia è che ruolo hanno i bambini in tutto ciò. Cioè che ruolo hanno i bambini nella valutazione? Ecco, anche qui diciamo che in passato abbiamo assistito un po' a un fraintendimento. Si è parlato di autovalutazione anche qui come spesso succede nella scuola in modo dicotomico. È giusto o è sbagliato? Ah ma allora è giusto che si debbano dare i voti ai bambini? No, è sbagliato. Ah è giusto che debbano parlare i bambini? Eh sì, solo i bambini possono valutarsi. Ecco, forse non è né una cosa né l'altra. I bambini non si danno un voto. I bambini non sostituiscono l'insegnante nella sua responsabilità valutativa. L'abbiamo visto nelle indicazioni nazionali la volta scorsa. L'insegnante ha la responsabilità della cura della valutazione, della scelta degli strumenti di valutazione e della comunicazione della valutazione al bambino. Allora, che cosa c'entrano i bambini? Che cosa possono fare i bambini? I bambini vengono coinvolti a vario titolo, lo vedremo oggi. I bambini vengono coinvolti come parte del processo di apprendimento e quindi apprendono mentre partecipano a questo processo. Ma se partecipano a un processo devono essere in grado di costruirsi un sistema autoregolativo dentro a questo processo. Devono essere in grado di riflettere su questo processo per farlo proprio. E concludo dicendo che non a caso uno dei quattro criteri, delle quattro dimensioni che abbiamo indicato come dimensioni della valutazione anche per la definizione dei livelli, è l'autonomia. Consapevoli che l'autonomia in realtà era quello principale che li comprendeva tutti. Il vero obiettivo finale dell'apprendimento è l'autonomia dei bambini rispetto all'apprendimento e quindi se l'autonomia è l'obiettivo finale, l'autovalutazione in termini di consapevolezza del proprio percorso è davvero l'obiettivo più alto, il livello più alto che noi possiamo pensare per i bambini nei loro percorsi d'apprendimento. Chiudo qua anche perché abbiamo iniziato con un attimo di ritardo. Parleranno la dottoressa Barbara Balconi, il dottor Franco Passalacqua e la dottoressa Paola Capitanio. Barbara Balconi e Franco Passalacqua sono due ricercatori del nostro dipartimento che hanno contribuito alla creazione di Bicocca con le scuole e che lavorano da tempo con gli insegnanti su questi temi. Paola Capitanio è una maestra che lavora con noi da anni, si è laureata da noi, lavora con noi da anni e è anche tutor di tirocinio in questo momento. Finisco con una comunicazione dicendovi che il 24 di marzo alle 15 daremo la laurea ad onore scausa a Franco Lorenzoni. Questo devo dire che costituisce un segnale grosso da parte dell'università di qualcosa che caratterizza in modo fortissimo la nostra università che è il rapporto fra scuola e università. Questo corso di laurea si è costruito a partire dal rapporto con la scuola e fra scuola e università che è un rapporto reciproco. È un rapporto reciproco perché l'università porta il sapere che proviene dalla sua prima missione che è la ricerca ma riceve dagli insegnanti il sapere che si costruisce in atto durante proprio l'esercizio della professione. E questo speriamo che costituisca per gli insegnanti un'occasione davvero per essere dei veri insegnanti ricercatori ma per i ricercatori di essere dei ricercatori che mettono le mani in pasta e che lavorano in campo. Ecco, quindi trovate tutti i dettagli su la laurea onore scausa a cui potrete assistere, partecipare alla cerimonia, diciamo, sul sito della Bicocca, non di Bicocca con le scuole ma sul sito della nostra università. Vi ringrazio e buon lavoro. Ringrazio la propria professoressa Nigris, grazie mille dell'introduzione e entrerai subito nel merito dell'incontro di oggi condividendo alcune slide e condividendo anche la struttura dell'incontro. Abbiamo immaginato una struttura divisa in due parti. Una prima parte di ragionamento rispetto al registro elettronico. Oggi vorremmo partire proprio da qui anche raccogliendo quelle che sono state le risposte ai due questionari di iscrizione al webinar di oggi e a quello del 3 marzo. Dal registro elettronico proveremo a capire in che modo i giudizi descrittivi, i commenti che noi diamo quotidianamente ai bambini possono essere utili per farci fare proprio il lavoro di inserimento dell'informazione dentro del registro. Non parleremo tanto di commenti o giudizi descrittivi ma parleremo di feedback rispetto a questo. Nella seconda parte invece dell'incontro faremo un passaggio dal feedback all'autovalutazione proprio per tornare a quanto diceva prima la professoressa Nigris ovvero alla necessità di far sì che i bambini possano essere consapevoli del loro percorso di apprendimento. E proveremo a ragionare in che modo questa capacità che noi alleniamo e questa competenza metacognitiva altissima che in realtà è quello che ci chiede come vedremo anche la riforma sulle linee guida per la valutazione descrittiva. Prevano a capire come queste informazioni sull'autovalutazione dei bambini possano in realtà essere utili per aiutarci a capire meglio che cose inserire all'interno del registro. E infine vi presenteremo in conclusione di questo percorso di due orette la proposta formativa che abbiamo pensato di strutturare rivolta a una piccola parte di insegnanti è un percorso formativo che non sarà più webinariale ma saranno proprio di laboratori ma su questo dedicheremo una piccola parte alla fine proprio dell'incontro. Allora, vorremmo proprio partire dal registro elettronico e in particolare dalle vostre difficoltà dalle difficoltà che tutti noi abbiamo nel scegliere che cosa mettere dentro il registro. Abbiamo letto le risposte che avete dato come dicevo ai nostri ai due questionarii di iscrizione e sono tornati alcuni elementi che abbiamo qua rappresentato. Per rispondere a questa domanda vi chiediamo un piccolo momento di attivazione. Oggi in particolare vi chiederemo di commentare un po' come facciamo sempre l'incontro, di porgere domande di condividere commenti anche verso il Padlet trovate il link del Padlet proprio sotto lo schermo sotto il video di YouTube nella descrizione trovate il link a cui potete accedere liberamente per scrivere i commenti. Ma adesso vi chiediamo di fare quest'altra cosa di andare molto velocemente dedichiamo proprio 5 minuti a questo passaggio di andare molto velocemente su questo sito che è menti.com e di inserire questo codice. Inserendo questo codice la domanda che viene fuori è quella che avevamo appena visto ovvero qual è la difficoltà principale che abbiamo nel inserire informazioni commenti all'interno del registro elettronico e proveremo a condividere anche lo schermo vedere un pochino le risposte che date. Quindi menti.com e poi questo codice vi apparirà la domanda adesso vado a prenderlo io tolgo un attimo la condivisione Scusa Franco ti segnalo che compare un rettangolo nella tua presentazione quindi devi spostare ah certo ok adesso dovrebbe essere attivo tolgo anche ricondivide tolgo il rettangolino ecco sto condividendo lo schermo e vediamo quali sono le difficoltà la prima è scegliere gli obiettivi da valutare la seconda è capire come strutturare nello spazio che abbiamo a disposizione il registro elettronico un commento descrittivo la terza è qualcosa che abbiamo già visto in particolare anche nei webinar ministeriali della professoressa Nigris cioè capire se effettivamente come associare i livelli e quello che sta emergendo è che il livello lo possiamo associare una volta che abbiamo più eh inserimenti all'interno del registro non basta una sola prova per stabilire il livello il quarto invece decidere quanto spesso scriverci infine i problemi più tecnici sta vincendo come vedete 110 112 risposte come strutturare un commento descrittivo ed è proprio in qualche modo l'oggetto del lavoro di oggi come vi dicevamo prima eh lavoreremo sulla strutturazione di un commento descrittivo chiamandolo anche feedback cioè nel pensare al commento descrittivo come un commento che ha la funzione di restituire al bambino e ai bambini ciò che hanno fatto gli apprendimenti che hanno messo in atto le modalità con cui hanno raggiunto o non hanno raggiunto e come hanno raggiunto un certo obiettivo anche i problemi tecnici sono abbastanza così gettonati ma non ci occuperemo ovviamente di quello allora tornerei subito alla presentazione ci serviva questo momento un po' per da un lato capire quali fosse effettivamente il problema ma anche per fare una specie di ragionamento metacognitivo cioè nell'atto di registrare alcune informazioni che cose effettivamente sono quali sono effettivamente gli aspetti di difficoltà che abbiamo ecco da dove partire per ragionare sull'inserimento del registro elettronico ci siamo detti proviamo a mettere a fuoco una domanda che non è solo quella del che cosa inserire ma del pensare a cosa può essere significativo inserire all'interno del registro elettronico e questo pensare a che cos'è significativo presuppone un ragionamento rispetto alla significatività delle informazioni non solo per noi insegnanti ma soprattutto per i bambini e per i genitori ma anche per noi perché come vedete nell'ultimo passaggio scritto sotto il fatto di inserire in maniera diciamo ragionata e sensata può tornarci assolutamente utile alla fine del percorso a metà perché noi se abbiamo inserito qualcosa di scritto in una maniera ricca abbiamo in qualche modo già traccia dell'evoluzione dell'apprendimento di quel bambino e poi di tutti i bambini ma proviamo a vedere degli esempi allora questo è il registro elettronico elettronico fino al diciamo precedente alla riforma sulla valutazione descrittiva è uno dei tanti registri sappiamo bene inserivamo i voti proviamo a vedere oggi invece un registro in qualche modo simile perché molti di voi lo sapranno perché utilizzeranno i registri così spesso è stato scelto un registro che ci fa scegliere un menu a tendina all'interno del quale noi possiamo individuare alcuni obiettivi di apprendimento alcune competenze e anche associare i livelli ora cosa cambia tra queste due modalità cioè forse cambia davvero molto poco cioè se il nostro registro non ci consente di inserire dei commenti ma noi possiamo solo scegliere in un menu a tendina già degli obiettivi prestabiliti magari da qualcun altro magari dal collegio della commissione valutazione ma possiamo solo selezionarne alcuni e poi individuare il livello ma allora siamo al punto di partenza ci siamo detti che per selezionare un livello abbiamo bisogno di più di molte evidenze di più prove così questo registro non è altro che un registro che replica la struttura valutativa di quello precedente quindi abbiamo la necessità di pensare a qualcosa di un po' diverso vediamo un altro esempio questo è un altro registro almeno è un uno screenshot di una finestra del registro la pagina di un bambino in cui abbiamo le diverse materie in questo caso non abbiamo la possibilità di selezionare il livello il livello sicuramente no ma nemmeno una cosa positiva prima sento un fastidio sento un audio scusate stanno facendo una roba e chiedo ok adesso non si sente più dicevo in questa modalità di registro elettronico non abbiamo i livelli ovviamente ma soprattutto è il docente che deve inserire un suo commento non deve scegliere nella mia tendina degli obiettivi prestabiliti questo ovviamente in termini diciamo di sostenibilità di tempo è un problema lo sappiamo perché vuol dire che ogni volta dobbiamo dedicare del tempo a scrivere per ogni bambino un commento diverso ma questo esempio in realtà se lo analizziamo meglio e vi porto anche le parole del docente che lo ha condiviso che è Antonella Colombo dell'Istituto Comprensivo di Robbiate che ha condiviso con noi un ragionamento in realtà più articolato dicendo sì apparentemente se noi vediamo questa questa fotografia ci sembra che ogni volta dobbiamo inserire un commento molto personalizzato e allora quanto tempo perdiamo nell'inserire queste informazioni ma quello che è stato fatto ad esempio se prendiamo il passaggio di storia presentazioni civiltà italiche l'esposizione è sicura i contenuti sono buoni mi soffermo su questo passaggio in questo caso gli insegnanti hanno scelto di utilizzare nemmeno un obiettivo hanno descritto contestualizzato un'attività presentazioni civiltà italiche questa espressione è stata la stessa per tutti i bambini quindi tutti i bambini avevano dentro presentazioni civiltà italiche e poi la seconda parte del commento veniva adattata alla prova specifica di quel bambino piuttosto di quell'altro se vediamo un esempio di matematica ad esempio l'inserimento del 17 febbraio c'è scritto ha raggiunto gli obiettivi quale obiettivo può interessante tra parentesi arrotondare i numeri per eccesso e per difetto portando a termine il compito con qualche incertezza e imprecisione un commento molto semplice anche piuttosto circoscritto come estensione di questo tipo però è ricco di informazioni per i genitori ma anche per il bambino non ci dice un obiettivo ampio generale ma ci dice un obiettivo molto molto specifico e questo aiuta i genitori ma anche il bambino a capire su quello su cui si sta lavorando arrotondare i numeri per eccesso e per difetto e poi aggiunge alcune informazioni portando a termine il compito come questa capacità di poter portare a compimento l'intera prova con qualche incertezza e imprecisione ora torneremo anche in chiusura rispetto al registro questa è sempre diciamo un'altra finestra del medesimo registro e possiamo vedere nei quadratini in verde ciò che veniva inserito nel primo quadrimestre e poi la ricchezza del fatto di avere dei quadratini delle celle blu dove cliccando sopra le informazioni che noi abbiamo o meglio che i genitori e anche i bambini possono avere sono molto più ricche rispetto a un 8 o un 7 e mezzo vediamo un esempio in matematica cliccando quel quadratino c'è scritto risolve problemi con le misure di capacità peso e lunghezza in modo abbastanza sicuro il procedimento per la risoluzione dei problemi è svolto in maniera autonoma e corretta vi sono tuttavia errori di calcolo o incollonamento nelle operazioni questo breve commento inserito se noi lo mettiamo in relazione a tutti gli altri dopo 4-5 commenti lì sì che possiamo identificare un livello ma soprattutto poi avremo la possibilità di capire l'evoluzione se c'è stata dell'apprendimento rispetto degli elementi molto circoscritti ora torniamo alla domanda di prima da dove partire per capire che cosa inserire come inserirlo abbiamo detto provare a ragionare un po' sulla funzione che ha il registro il fatto di condividere con le famiglie anche con il bambino alcune informazioni ma allo stesso tempo di mettere noi ordine per poter avere delle evidenze continue ecco ma qual è il faro che ci può guidare ancora di più nel capire questa sorta di linee guida per la compilazione del registro nemmeno per l'intero processo valutativo le linee guida sono le linee guida stesse perché nelle prime due pagine delle linee guida ci vengono fornite delle informazioni relative alla cornice teorica della valutazione cruciali proprio per capire cosa inserire cosa farcene del registro elettronico prima di tutto la valutazione ha una funzione formativa fondamentale la valutazione è uno strumento per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze quindi il registro elettronico deve rendere visibile questa dimensione formativa ma deve rendere visibile con parole accessibili ai genitori a noi e ai bambini la progressiva costruzione della conoscenza dei bambini nella seconda pagina se vedete il passaggio riquadrato in rosso si dice che la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale ma soprattutto promuove l'autovalutazione ed è proprio qui che noi vogliamo avviare un percorso adesso con alcuni esempi ma con la testimonianza di un insegnante Paola Capitanio un percorso proprio che ragiona sulle scelte da compiere per arrivare al giudizio e commenti da inserire nel giudizio elettronico ma scelte che non dipendono tanto dalla parola da inserire di dentro ma che presuppongono tutto il lavoro che facciamo prima in particolare rispetto all'autovalutazione ma ancora prima ai commenti che noi non scriviamo nel registro ma scriviamo sui quaderni che rapporto c'è tra i commenti che noi scriviamo sui quaderni dopo una prova di verifico un'attività ai bambini e invece quelli che mettiamo nel registro sono la stessa cosa quando hanno una funzione davvero formativa proviamo a vederlo questo lo facciamo vedere dopo quindi feedback autovalutazione Paola ti lascerei subito parola e chiedo alla regia se potete dare a Paola il ruolo di regatore buonasera a tutti Franco condivido quindi le slide perfetto si condividi tu fino a dove siamo arrivati partiamo da qui quindi buonasera a tutti io porterò l'esperienza di un insegnante di un insegnante di scuola primaria in modo particolare partirò dalla mia esperienza di quest'anno come insegnante di classe prima di scuola primaria ma facendo riferimento più volte a un'esperienza davvero significativa di insegnante di scuola primaria in tempi di didattica a distanza dello scorso anno quindi già per rispondere a qualche indicazione comparsa sul Padlet appunto rassicuro nel fatto che parleremo anche di didattica a distanza con alcuni esempi e con alcuni rileggendo alcune esperienze dello scorso anno alla luce di quello che stiamo vivendo tuttora in modo particolare io parterei raccontandovi un po' una mia esperienza potremmo dire di un mio percorso personale di avvicinamento al giudizio descrittivo presentandovi un po' un contesto siamo a dicembre a dicembre di una classe prima sottolineerei che era un dicembre speciale appunto dicembre 2020 speciale per due motivi quindi da una parte la sensazione di avere sempre meno tempo di avere un tempo prezioso da vivere in classe con gli alunni pensando che la chiusura della scuola sembrava sempre in agguato pensando di avere possibili alunni a casa a breve o chiudere direttamente la scuola per problemi appunto di pandemia ma dall'altra parte un direi un dicembre speciale per l'arrivo anche delle linee guida e allora proviamo a rileggere queste due cose insieme siamo a dicembre di una classe prima in cui l'avvicinarsi alla lettura alla scrittura è sempre più patrimonio del gruppo classe e volevo poterli far avvicinare a queste due abilità che diventeranno via via delle competenze sempre più acquisite da loro in un contesto di senso ecco che allora ho sfruttato l'idea del loro entusiasmo per le vacanze di Natale in arrivo ma soprattutto per tutto ciò che riguardava il Natale e le decorazioni natalizie che stavano invadendo le loro case c'era dall'altra parte un'altra necessità importante che era accompagnarli nella valutazione avevamo scelto come team di classe di non valutare i primi mesi di scuola con un voto numerico ma volevamo trovare un modo per poterli supportare in questo processo di apprendimento da poco iniziato è una delle frasi ricorrenti in prima hanno appena iniziato li conosciamo poco come valutarli in che modo valutarli ecco mi viene da dire in questo momento in che modo quindi supportarli ecco che allora sono arrivate in questo dicembre le linee guida che mi hanno toccato dal vivo pensando di dire bene ok Paola come puoi sperimentare questa valutazione descrittiva in questo contesto e in che modo tanti erano i dubbi tanti erano le perplessità ma dall'altra parte trovavo in questa in questa possibilità la possibilità di poterli supportare supportare i miei alunni nel modo forse più adeguato possibile ecco che allora vi presento brevemente Paola scusami se ti intorno puoi mettere in modalità scrum intero veramente grazie scusate come ci ha segnato la regia grazie Paola scusate quindi ecco che ero partita da questa attività appunto ve la descrivo brevissimamente non tanto per concentrarci sull'attività ma per dare un senso all'attività che vi presento avevo dato questa consegna di poter fotografare e condividere su Classroom una delle decorazioni natalizie presenti nella loro casa e da lì poter partire così con un'attività svolta insieme in classe dove a partire da alcune indicazioni che io la lavagna segnavo attraverso la costruzione di questa piccola mappa questa mappa chiedevo loro di poter iniziare a scrivere qualcosa in merito alla loro decorazione quindi come vedete ci sono due esempi quelli portati nella slide a sinistra vedete appunto la struttura diciamo della mappa presente alla lavagna che veniva via via compilata passo a passo di modo che ogni bambino potesse via via inserire le informazioni che io gli richiedevo in questo caso vedete come a partire da una stessa attività qui ci sono due esempi ma direi che potrei mostrarvene tanti altri come ognuno ha costruito e ha creato la sua mappa con le capacità che aveva in quel momento e facendo questo lavoro in autonomia chiedendo aiuto nella scrittura di alcune parole che ancora non conosceva e di alcune lettere che ad esempio ancora non avevamo del tutto affrontato ecco che a quel punto l'attività appunto prevedeva un secondo momento come vedete appunto nelle indicazioni di lavoro con le informazioni raccolte nella mappa quello che chiedevo era quello di provare a scrivere un primo testo un primo testo interno dove appunto le informazioni venivano così riportate ecco che da insegnante mi ritrovavo nelle mani moltissimo materiale un materiale prezioso dei bambini che mi parlava del loro processo di apprendimento mi parlava di tante cose mi parlava se riguardiamo qui poteva parlarmi di come avevano interpretato e capito la mia consegna di lavoro come erano riusciti a seguire le mie indicazioni delle indicazioni orali come avevano provato a scrivere le informazioni che chiedevo e come avevano provato a scrivere un testo un brevissimo testo un semplice testo a partire da una struttura già predisposta e costruita insieme ecco che questi erano gli esercizi che io gli chiedevo a questo punto la domanda che mi si posta è bene ma come poter restituire questo tipo di lavoro questo enorme lavoro perché era stato un lavoro grande importante per ognuno di loro allora proviamo a concentrarci su questo esempio avete visto prima ne ho mostrati degli altri in modo particolare ci soffermiamo su questo esempio e su questo vanghino ecco la prima il primo feedback molto semplice che mi è venuto in mente è un bravo ha saputo seguire le mie indicazioni seppur vedete con alcune imprecisioni credo che sia caduto all'occhio di tutti che le informazioni che io chiedevo non sono tutte presenti nella mappa di questo bambino però era era riuscito a fare parte buona parte del lavoro che avevo richiesto ed era riuscito anche a scrivere un primo testo in autonomia e quindi come però formulare questo tipo di feedback allora ho provato ad aggiungere una parte al mio feedback proprio per cercare di dare al feedback un valore descrittivo di quello che il bambino stava facendo in quel momento perché mi sembrava proprio prioritario questo per cui provare a restituere con delle parole semplici il fatto che era riuscito a completare la mappa con alcune delle informazioni richieste dall'albero scusate richieste sul suo albero quindi richieste però nella mappa lui parlava del suo albero e anche qui questa prima parte l'ho restituita a lui come l'ho restituita agli altri per cui mi sono chiesta come poterla restituire per cui ci sono bambini che hanno restituito e hanno completato la mappa con tutte le informazioni che invece come questo bambino con alcune delle informazioni richieste e ho voluto restituire che grazie a questa mappa quindi restituendo anche proprio la funzione anche di questo esercizio grazie a questa mappa è riuscito a mettere insieme delle semplici frasi con le quali è riuscito a formare un suo primo testo ecco che però anche qua questa formulazione mi sembrava che desse delle informazioni ma che potesse essere ancora più completa se poteva dare al bambino la possibilità di fare un passaggio oltre un passettino oltre quindi ricavare dal mio feedback alcune informazioni devo dire fondamentali per lui per poter proseguire per poter andare avanti nel suo processo d'apprendimento ecco che allora aggiungerei ho aggiunto un altro pezzo nella quale davo delle indicazioni ad esempio l'indicazione qua in questo caso era di provare a rileggere tutte le volte che scrive perché magari qualche lettera è scappata è scappata c'è qualche lettera di troppo ma anche c'è qualche lettera che manca piuttosto che in altre occasioni ho scritto che ad esempio di ricordare di separare le parole processo che ancora dicembre della prima non era assolutamente scontato ecco questo è un primo esempio di formulazione di un feedback a partire da da un'attività che ho voluto restituire loro con diciamo una progressione nel ragionamento ecco ho voluto ho voluto provare ad esplicitarvi quali sono stati i miei pensieri nella scrittura del feedback vi lascio la parola Franco e Barbara Barbara e l'audio chiuso eccomi mi sentite ora? sì? perfetto io mi inserirei proprio su su questa analisi che sta facendo Paola prima di ridarle parola proprio per fare una sorta di affondo su questa costruzione di in progress del feedback no? e abbiamo provato a sintetizzare all'interno di questa slide come se ci fossero tre livelli che si sono che sono andati a completamento in questo percorso che Paola appena ha descritto un livello iniziale che è stata la prima esclamazione no? se volete bravo quindi arriva un feedback che si pone un insegnante che fornisce un rinforzo positivo ma abbastanza generale no? non contestualizzato che però riconosciamo e ritorniamo un attimo al contesto effettivamente restituisce uno sforzo che è stato fatto da un bambino di classe prima a dicembre il secondo passaggio che Paola ha aggiunto è stato arricchire questo rinforzo positivo generale con delle altre informazioni che vanno un po' a specificare alcuni elementi legati alla prestazione e Paola vi ha fatto notare come ha agito diciamo su due fronti da un lato restituendo la capacità del bambino di riuscire a completare questa mappa che le aveva dato come consegna e dall'altra parte la sua capacità di mettere in gioco le informazioni che questa mappa aveva permesso di evidenziare sottolineando anche il fatto che non fossero tutte quante quelle che lui aveva utilizzato quindi giocandosi questa parola semplice di alcune poi abbiamo un terzo livello che è quello che lei dice dove mi mancava un aspetto più da restituire e quindi arriva questa seconda parte dove si aggiunge grazie alla mappa hai scritto delle frasi che insieme formano il tuo primo testo e poi quando scrivi ricorda di rileggere potrebbe esservi scappata qualche lettera in questo pezzo ci vediamo effettivamente che l'insegnante è come se mettesse in luce alcuni strumenti che possono diventare utili anche in altre situazioni ok al bambino per costruire un testo questo era il suo primo testo è un bambino che appunto sta iniziando a scrivere e quindi diventa importante anche provare a restituire la logica di questo compito quindi grazie alla mappa hai scritto queste frasi che ti hanno consentito di mettere di mettere a punto il tuo primo testo ma aggiunge un altro pezzo che si configura proprio come un suggerimento come una restituzione come a dire hai fatto tutto questo ti suggerisco un pezzettino ulteriore da fare che è appunto quello in questo caso di provare a abbozzare una primissima revisione del testo provo a inserirmi rispetto a quanto dici Barbara perché effettivamente anche nella costruzione che abbiamo fatto progettando questo webinar con Barbara e con Paolo abbiamo provato a immaginare proprio tre step tre livelli li abbiamo chiamati come dire quando siamo di fronte a questa difficoltà e lo abbiamo visto su menti di dover scrivere un commento perché bravo è troppo poco abbiamo scritto come vedete se dico bravo cosa attivo nel bambino cioè che cosa gli sto dicendo abbiamo detto un rinforzo generico perché dico bravo ma su cosa su quale obiettivo su quale capacità lo sto aiutando a ragionare su un aspetto che effettivamente sappiamo è cruciale per il suo apprendimento in prima ad esempio rispetto ad un'abilità specifica relativa all'elettro scrittura no quindi il bambino cosa si porta a casa quella funzione formativa della valutazione che è la cornice dentro la quale stiamo operando e che ci chiede di operare il ministero linea guida la mettiamo in atto così assolutamente no il secondo livello e il terzo già ci dicono qualcosa in più e proverei a mettere in luce il fatto che come dicevi tu Barbara il terzo livello arriva quasi ad attivare una sorta di funzione metacognitiva cioè il terzo livello aiuta il bambino a capire anche le azioni che ha compiuto grazie alla mappa hai scritto delle frasi che insieme e formano il tuo primo testo ripercorre e costruisce anche una sorta di nesso causale cioè aiuta il bambino a capire qual è stato il supporto che ha ricevuto cioè grazie alla mappa come dire guarda la mappa è uno strumento che in tutta la prima in tutta la seconda ma sempre ti servirà per poter scrivere quindi lo stiamo aiutando a capire quali possono essere degli ausili dei supporti poi invece questo suggerimento è interessante da guardare dalla lente diciamo dell'autovalutazione e qui Paola ti lascio parola per vedere il prossimo esempio perché ci potremmo chiedere ma questo passaggio questa formulazione linguistica quando scrivi ricorda di rileggere potrebbe esserti scappata qualche lettera gli stiamo dicendo noi qualcosa cioè se noi vogliamo effettivamente che il bambino sviluppi una capacità di metalinguistica cioè di riuscire al termine di un breve testo di tornare indietro e di riguardarlo per andare a vedere cosa ha funzionato cosa no se ci sono degli errori quindi questa capacità cruciale da sviluppare fino alla prima effettivamente questa parte del feedback è funzionale non lo so perché è come se stiamo dicendo noi forse all'inizio per alcuni bambini è utile dirla ma non stiamo attivando quel ragionamento per cui il bambino dice ah aspetta adesso provo a capire che mi stai dicendo questo e ragiono io e con questo ti lascio parola Paola perché vediamo il quarto livello se c'è un quarto livello di commento descrittivo di giudizio descrittivo che stiamo chiamando feedback e ribadisco perché lo stiamo chiamando feedback perché è come se nel webinar di oggi rispetto alla valutazione di itiner noi stiamo cercando di dire bene ma ogni commento che noi diamo deve servire formativamente al bambino per ragionare sulla sua non prestazione ma sul suo processo di apprendimento altrimenti se diciamo bravo bravissimo meraviglioso bravino possiamo anche non scrivere nulla che forse è meglio ecco quindi ti lascio la parola Paola ecco continuo continuo nel presentare una seconda attività pensando al contesto di a un nuovo contesto la classe è sempre la stessa è un mese dopo è esattamente un mese dopo rispetto alla prova che avete visto poco fa ed è la fine del primo quadrimestre dove le domande rimangono sempre come accompagnarli nella valutazione anche a questa fine quadrimestre come sperimentare questa valutazione descrittiva ma in un altro contesto che era quello della lettura della lettura strumentale che si stavano appunto avvicinando sempre più e la comprensione ecco che qua lo sguardo lo sguardo che mi viene da dire cruciale rispetto a questo tipo di attività scusate ma mi sposterei prima qua lo sguardo cruciale era stato quindi vi presento brevissimamente l'attività l'attività è un'attività anche qua molto semplice io avevo proposto loro di leggere in autonomia queste questi brevi queste brevi didascalie sotto questi disegni erano sette sette didascalie dove dovevano sostanzialmente provare a da soli leggere queste queste didascalie e colorare nel modo nel modo corretto i disegni quindi l'attività era un'attività molto semplice e questa attività però mi ha mi ha fatto pensare a due aspetti rispetto alla restituzione rispetto a quello che dicevamo alle domande appunto che hanno accompagnato un po' questa questa mia ricerca e sperimentazione come supportarli nel processo di apprendimento bene allora qua in questo caso ad esempio mi è sembrato fondamentale soffermarmi sulla consegna e restituire loro loro e le loro famiglie la consegna cioè provando a concentrarmi su quello che io avevo chiesto loro nel fare questo tipo di attività e quindi qua la rileggo per la rileggo insieme a voi per analizzarne pezzo per pezzo rispetto a quello che stiamo dicendo quindi c'era un leggi da solo le frasi che trovi sotto ogni disegno pensate che differenza torno all'esempio che differenza ci sarebbe stata se io avessi proposto queste schede erano due schede a livello pratico erano proprio questi otto disegni su due schede io avessi distribuito queste schede avessi letto per loro le otto le otto vignette e avessi detto bene adesso rileggetele voi e colorate ecco in questo caso invece ho chiesto di fare da soli quindi di leggere da soli le frasi scritte sotto ogni disegno di porre attenzione a quello che c'era scritto e di capire così come colorare i particolari del disegno avevo dato delle indicazioni anche precise rispetto alla coloritura di colorare con dei pastelli colorati con molta precisione e al termine da lavoro ritagliare con le forbici appunto seguendo le linee curve che io avevo indicato nei disegni e incollare sul quaderno quindi la prima la prima cosa che mi sono detta nel riscrivere quindi ricostruendo appunto brevemente l'attività io queste indicazioni le ho date a voce ma nel momento di creazione di restituzione del feedback mi sono riscritta queste consegne la prima cosa di cui mi sono resa conto era che io ho chiesto tanto loro rispetto alla comprensione delle indicazioni di lavoro non stavo chiedendo una sola cosa e non era così scontato che a fine prima a fine primo quadrimestre di prima tutte queste indicazioni venissero ascoltate seguite da soli stavo chiedendo di fare molte attività in autonomia e questo credo sia stato anche abbastanza ridondante nello scriverlo anche nella consegna vedete che torna più volte quando con Barbara e Franco ho ragionato su questa attività loro mi hanno fatto notare che questo aspetto dell'autonomia mi era molto a cuore visto che continuavo a ripeterlo nelle varie indicazioni e nelle consigli ecco che qui poi chiedevo loro delle abilità particolari specifiche di questo esercizio ovvero il saper leggere in autonomia delle frasi in questo caso erano frasi in stampato maiuscolo per cui mi sono chiarita che tipo di obiettivo stavo valutando e a livello generale sarebbe stato come obiettivo quello del padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione che sarebbe stato poi uno degli obiettivi scelti poi per il primo quadrimestre per la scheda di valutazione c'era un comprendere ciò che veniva letto e c'era anche un'attività un'abilità più pratica rispetto alla coloritura legata a uno sviluppo della motricità fine che mi interessava tenere monitorato tenere sotto controllo per poter continuare questo lavoro grafico di attività grafica di introduzione al corsivo e di varie proprie abilità di motricità fine che stavamo tenendo monitorate ecco perché anche in questo caso ho tenuto a inserirlo in questo tipo di consegna ecco che allora a livello proprio pratico mi è sembrato fondamentale poi restituire ai bambini un feedback ma anche dare loro la stampa diciamo della consegna e anche degli obiettivi di modo che in questo senso ci fosse un accompagnamento anche nella lettura del mio feedback ecco che ora ho provato a scrivere un feedback prima però ho provato a chiedere loro un pezzettino in autonomia quindi per poter arrivare al mio feedback avevo bisogno di qualche altra informazione in più e allora ho proposto loro queste tre domande ho proposto la domanda di essere riusciti a lavorare da soli per cui torna il discorso dell'autonomia provando a chiederlo a loro chiedendo a loro secondo loro come era stato questo tipo di lavoro se è facile così così è difficile queste erano un po' le parole che tornavano che tornavano nei nostri discorsi dall'inizio dell'anno e poi c'era una terza domanda qui faccio un momento di riflessione personale rispetto alla scelta della domanda ecco che avevo inserito questo a cosa ti è servito questo lavoro ecco era una domanda difficile era una domanda che se pensate all'esperienza di prima quando nell'esperienza della decorazione sono stata io che nei feedback ho chiesto ho detto loro a cosa era servito quel lavoro ecco in questo caso ho provato nell'autovalutazione a chiedere loro secondo loro che cosa era servito questo lavoro non tutti hanno saputo rispondere a questa domanda ma è anche vero che mi ha dato alcuni strumenti anche questo tipo di domanda per ripercorrere insieme a loro il che cosa si stava facendo proprio perché alla luce della fine del quadrimestre in cui con loro stavamo ragionando sulla scheda di valutazione e sugli obiettivi raggiunti alla fine del primo quadrimestre questa domanda andava in quella direzione ecco che allora abbiamo dei nuovi livelli di feedback non so se Franco vuoi subito intervenire tu magari Barbara poi parliamo tanto sì in realtà Paola magari possiamo anche lasciare l'ultimo feedback che tu hai scritto su questa scheda della neve perché effettivamente il passaggio ulteriore rispetto al lavoro di prima dove abbiamo visto che da un feedback un po' più generale in realtà passiamo a un feedback un po' più focalizzato e con un ulteriore rilancio al bambino in questo caso abbiamo fatto un passaggio ulteriore legando questo feedback all'autovalutazione quindi quelle famose domande che Paola vi ha detto che aveva bisogno di fare al bambino per ricavare anche il suo punto di vista d'accordo e quindi in questo senso rispetto ai tre livelli di prima è come se si aggiungesse un quarto livello e quindi è il feedback in dialogo con l'autovalutazione ok sì allora qui guardate riporto qua brevissimamente vuoi vedere quella dopo no perché c'è un errore per cui che si appicciara qua per cui il feedback dato questo è un esempio dove c'è in modo autonomo hai letto con attenzione tutte le sette frasi sei riuscito a colorare correttamente tutti i particolari dei disegni dimostrando di avere capito quanto hai letto hai ben seguito la linea per ritagliare una figura che è colorata abbastanza precisamente ecco che qua c'erano delle indicazioni rispetto agli obiettivi ricordate che avevamo che avevamo detto per cui qui c'era un restituire in questo caso c'era un aver voluto restituire l'autonomia rispetto al tipo di lavoro al tipo di attività che veniva richiesta esatto aggiungere proprio questo il fatto che in questa sorta di livelli diversi per arrivare a un feedback a un commento descrittivo che sia effettivamente adeguato e di supporto all'apprendimento tu stai dicendo e provo a entrare dentro proprio il ragionamento che hai compiuto stai dicendo che hai proprio sei partita dagli obiettivi è come se per riuscire a fare un commento descrittivo effettivamente utile adeguato ed efficace occorre prendere proprio gli obiettivi e capire poi come restituirli con delle parole che siano ovviamente accessibili ai bambini e lo stesso nel registro elettronico comunque qua parliamo del quaderno o in dad su classroom piuttosto che un commento scritto via mail e aggiungerei un altro aspetto quindi da un lato il fatto che tu hai sei tornata sugli obiettivi come dire gli obiettivi sono quelli quella è la consegna vediamo cosa è successo ti aiuto a guardare cosa hai fatto e come sei stato dentro con gli obiettivi l'altro aspetto metacognitivo che anticipava prima Barbara riguarda l'ultima frase proprio hai ben seguito la linea per ritagliare se vai ti chiedo di andare avanti avanti nelle slide non so Barbara facciamo vedere l'ultima esatto perché abbiamo scritto che questo feedback è come se mettessi in luce in maniera molto ricca agli obiettivi da un lato l'autonomia e la comprensione del testo poi dentro la comprensione del testo l'autonomia ci sono poi una serie di sotto obiettivi ma anche delle abilità apparentemente secondarie che sono tuttavia cruciali in quella fase diciamo di apprendimento dell'autoscrittura cioè abilità occuro manuali motricità fine il fatto di aver sottolineato la capacità di colorare di tagliare le figure quindi come restituito in maniera molto ricca una serie di obiettivi e poi come è consentito al bambino di ripercorrere le tappe del lavoro cioè hai ben seguito la linea per ritagliare il fatto di nominare questa azione il fatto di aver detto di aver lavorato in maniera autonomo di aver colorato è come se tu hai messo a fuoco i diversi momenti dell'attività e aiutato il bambino quando lo legge a dire ah quell'attività che magari nella percezione del bambino è un flusso esperienzale indiscriminato leggendo il feedback io capisco tutte le cose che ci sono dentro e allora riesco a mettere a fuoco che cosa ho fatto lì dentro e come l'ho fatto quindi è come se in pochissime righe c'è questo mondo che aiuta il bambino a ragionare proprio sul suo processo di apprendimento ecco Franco in questo come ragionamento come insegnante torno a dire un po' quello che stavo dicendo prima ma lo riformulo forse meglio per me era stato fondamentale riscrivere la consegna di lavoro per chiarirmi esattamente che cosa volevo con quel tipo di attività sto pensando a quest'ultima parte che stai facendo sottolineare tu adesso cioè il tagliare e il ritagliare cioè è chiaro che è un'attività che viene fatta più o meno in tutte le prove però in questo momento era un'attività cruciale per quel momento lì ecco perché nella consegna di lavoro l'ho esplicitata sì e mi viene a dire come se questo feedback dove hai esplicitato tornando sulla consegna riscrivendola smontandola ragionandoci proprio hai proprio reso visibile al bambino cosa ha fatto per mettere in atto quella consegna cioè tutto quello che di invisibile lui ha fatto scrivendo ritagliando o meglio che ha fatto ma che è già passato tu lì dentro gli hai consentito di riguardarlo e aggiungerei anche un altro aspetto non so Barbara se vuoi volevi intervenire vai 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 è un aspetto forse un po' diciamo secondario cioè ma quanto tempo ci vuole per fare questo per tutti i bambini cioè se davvero per ogni attività poniamo questa devo dedicare del tempo e perché la consegna la rileggo una volta e ci ragiono una volta ma queste quattro righe pensate li vanno via due ore solo per un feedback per un'attività dei bambini e quindi secondo me qua diventa cruciale dire bene quando lo faccio per quanti bambini non hai detto che nella stessa prova ma poi ti chiedo a te Paola di intervenire non hai detto che per la stessa attività debba restituire lo stesso feedback identico per tutti magari per alcuni bambini che per delle ragioni ritengo che hanno fatto un lavoro particolare quindi do quel feedback e dedico un po' più di tempo poi a volte in prove dove il feedback riesco a darlo in maniera molto più rapida magari lì sì che posso dedicare un po' di tempo per tutti tu come ti sei mossa su questo? Cioè effettivamente hai fatto un feedback per tutti hai scelto alcuni bambini che cosa ti viene da dire rispetto a questa fatica che abbiamo? Allora è una fatica innegabile c'è è una fatica che c'è come insegnanti e che ci ci fa usare molto tempo nella restituzione è anche vero che torno a quello che dicevo prima rispetto al chiarirsi consegna e obiettivi perché una volta chiariti questi due aspetti fondamentali la strutturazione del feedback è molto più semplice è molto più fattibile per cui voi adesso qua ne avete visto solo uno ma i feedback erano tutti molto simili l'uno con l'altro e quindi anche se vogliamo dire dal punto di vista pratico e organizzativo costruendone uno di partenza venivano poi modificati quelli successivi per poter davvero avere un'economia di tempo dall'altra parte mi sembrava fondamentale per questo tipo di attività Franco restituire a tutti tutti questi aspetti proprio perché in quel momento dell'anno mi sembrava cruciale restituire questo tipo di obiettivi a tutti i bambini ecco perché appunto la struttura fondamentalmente era sempre la stessa per cui c'era l'autonomia veniva sottolineata l'autonomia rispetto alla lettura rispetto alla coloritura correttamente o più o meno correttamente o quasi correttamente nel caso in cui alcune figure ad esempio alcuni particolari non fossero stati colorati correttamente mettevo un numero per cui non so sei riuscito a colorare cinque vignette su sette in modo corretto hai dimostrato di avere capito o capito non del tutto capito quanto hai letto ecco insomma la struttura era sempre quella ecco questo mi sembra che possa essere un modo per alleggerire il lavoro nonostante appunto ci voglia del tempo questo questo è innegabile ecco che però rispetto alle domande se ricordate della prima slide che guideranno un po' questa mia riflessione sul bene ma come accompagnarmi il percorso d'apprendimento come rendere evidente questo processo di apprendimento questa mi sembrava la strada più efficace non la più veloce sicuramente ma la più efficace sì provo a fare un piccolo inciso su questo che sta dicendo Paola nel senso che mi sembra di cogliere che nel ragionamento che sta facendo un po' ad alta voce rispetto all'individuazione degli obiettivi che poi l'hanno portata a formulare la consegna in quel modo è come se avessero orientato lo sguardo rispetto a come lei andava a vedere le varie le varie schede compilate dai bambini d'accordo per cui lei dice l'economia di tempo arrivava perché a quel punto avevo ben chiaro dove andare a posare lo sguardo e a quel punto valutare effettivamente Francesco dove era arrivato Giulio dove era arrivato ciascuno rispetto alla sua specificità e ci ha detto una cosa interessante e mi permetto di inserirmi adesso perché anche sul Padlet appunto ritornava anche il commento rispetto a una sostenibilità del lavoro di questo tipo ma anche rispetto al quanto spesso registro queste informazioni sul registro scusate il gioco di parole quante volte scrivo queste informazioni sul registro Paola vi ha detto che in questo caso era una diciamo era un punto di svolta no? ritorniamo a un contesto di classe prima per cui era una una prova peculiare in questo caso la prova era uguale per tutti e lei diceva mi sembrava importante restituire a ciascuno il feedback ecco allora qui secondo me si possono aprire diverse possibilità sul quanto scrivo sul registro in questo caso può essere una prova uguale per tutti o registro in questo caso il feedback per 25 con tutta la fatica che sta dicendo ma poi ci sono anche delle altre casistiche in cui magari posso annotare dei commenti solo riferiti al singolo ad esempio piuttosto che penso nel momento in cui ho uno scambio verbale con i bambini può esserci qualcuno che interviene di più qualcuno che interviene di meno e magari in quel caso annotarmi quello che è successo per due per tre piuttosto che a un certo punto propongo un lavoro di gruppo e decido di guardare miratamente solamente un gruppo adesso questo lo possiamo fare anche in dad magari connettendomi e monitorando effettivamente un solo gruppo che lavora e in quel caso terrò traccia di quel gruppo lì oppure addirittura di quei tre lì magari posso provare a sentirne uno prendermi un momento solo con lui e alternare questa cosa per cui magari alle volte avrò di tutti tutto ma magari invece alle volte avrò registrato un commento solo di alcuni questa è un'altra possibilità diciamo che abbiamo rispetto all'utilizzo del registro e a come giocarselo secondo me l'aspetto importante è ritornare effettivamente a che cosa mi interessa vedere quindi questo ragionamento che stava facendo un po' Paola ritroso tornando sul focalizzarmi sull'obiettivo perché credo che davvero quello orienti poi il lavoro successivo ma è interessante Barbara quello che dici perché come se diciamo questa riforma ha un po' scardinato un modello che avevamo incorporato cioè che le verifiche erano o le attività uguali per tutte ma per tutti e che ogni volta devo mettere voti per tutti effettivamente poi come se dovendo dare un feedback così articolato a volte posso scegliere verifiche molto strutturate anche con domande chiuse per delle cose vanno benissimo e lì sarà semplice dare quantomeno raccogliere i dati per dare una valutazione o un brevissimo commento ma tu ci stai dicendo Barbara che io posso scegliere come dire durante il quadrimestre ad alcune alcune volte avrò per questi tre bambini quelle attività perché so che per loro sono significative e tutti gli altri non li avrò valutati con questa ricchezza altre volte invece andrò sui bambini quindi è un cambio apparentemente semplice ma credo che proprio vuol dire scardinare anche l'idea di valutare tutti con gli stessi strumenti tutti i giorni ecco quindi non lo so è una riflessione interessante l'altro aspetto che rispetto alle tempistiche mi viene a dire è vero che ci vuole più tempo però questo giudizio questo feedback questo giudizio iscrittivo secondo me è come se è pronto per essere inserito nel registro elettronico quindi in realtà guadagniamo un sacco di tempo perché poi non è che dobbiamo andare parlo del menu a tendine a livello perché quel tipo di registro replica la struttura dei voti e a nostro avviso non è opportuno ma se pensiamo al registro che ha condiviso Antonella Colombo e il comprensivo di Robbiate è proprio un po' questo lavoro che hanno fatto loro parlando proprio con Antonella diceva nel momento in cui raccogliamo dei commenti che diamo quei commenti sono pronti perché sono proprio focalizzati sull'obiettivo abbiamo smontato la consegna e allora una volta li posso prendere e buttare dentro il registro senza dover chissà quale altra altro commento formulare quindi le tempistiche poi possono forse anche ridursi ecco sì forse su questo c'era anche qualcuno interessato sto guardando il Padlet interessato anche rispetto alla diversità di risposte dei bambini Paola cioè chiedevano se tutti diciamo se la proposta uguale per tutti era adeguata ai livelli dei bambini e se tu hai riscontrato delle grosse disparità tra loro e come le hai restituite ma allora in questo caso avevo proposto un'attività uguale per tutti un'attività pensata per i bambini della classe per cui adeguata dei bambini di quella prima ecco sottolineerei questa prima nel senso che ci sono prime di vario tipo con bambini di vario tipo in questo caso era una prova che poteva essere un po' per tutti e ho avuto delle ho avuto una buona risposta da parte di tutti soprattutto perché appunto se ricordate c'era la possibilità insomma io chiedevo di fare questo lavoro in autonomia ecco nella consegna questo non è esplicitato ma chiaramente io ero a disposizione dei bambini per cui anche il mio feedback poi ha restituito questo io chiedevo di fare questo lavoro in autonomia in questo caso qui a differenza della decorazione quando appunto alcune parti erano state fatte in comune in questo caso è un lavoro in autonomia ma ci sono bambini che comunque supportati dall'insegnante soprattutto ecco mi viene da dire chiedendo delle conferme ecco chiedendo conferme rispetto a delle parole lette le loro conferme sembravano quasi un ma davvero ho letto questa parola ma ho letto proprio rosso detto sì coraggio è rosso continua prosegui ecco questi miei interventi sono serviti per qualcuno e sono serviti proprio per portare a termine il compito il compito bene direi che possiamo passare allora alla seconda parte c'è qualche commento Barbara che magari meritava risposto proviamo a rispondere dopo io vorrei forse fare una precisazione che questo tipo forse questo tipo di lavoro anche leggendo un po' i commenti su Padlet è un'attività che logicamente va un po' riadattata rispetto alla DAD c'è chi sta chiedendo come poter lavorare da questo punto di vista anche in DAD e con queste indicazioni ecco penso che in questo caso davvero sia fondamentale chiarirsi quali sono gli obiettivi di questo tipo di DAD che abbiamo in questo momento in questo momento penso che sia una delle paure delle preoccupazioni di tutti del ripetere quello che l'anno scorso è successo dall'altra parte mi viene da dire che in questo momento come insegnanti abbiamo bisogno di pensare a un progetto a breve termine rispetto a queste due settimane e mezzo che ci aspettano di DAD certa e sicura per cui in questo momento possiamo monitorare alcuni aspetti restituendo ad ognuno di loro alcune parti di questo lavorare a distanza penso ad esempio a come l'autonomia rispetto a un certo tipo di richieste possa essere monitorata tenendo presente quanto quanto a casa hanno un aiuto di tipo diverso l'aiuto di mamme papà nonni zii babysitter per cui c'è un'autonomia diversa che però può essere monitorata e adesso con la seconda parte credo che potremo mostrare degli esempi su cui poter riflettere anche in questo senso sì infatti adesso passiamo all'autovalutazione e la DAD nella sua difficoltà assoluta in realtà è come se rendesse più difficile promuovere l'autovalutazione ma ancora più cruciale perché non siamo lì con loro abbiamo difficoltà ad avere quella relazione e capire effettivamente che cosa stanno imparando cosa stanno pensando che difficoltà stanno trovando e quindi è come se la DAD ci imponesse un ripensamento dell'autovalutazione in funzione proprio un po' rutinaria cioè abituarci a trovare dei momenti in forma scritta in forma morale per cui riusciamo a condividere il processo di apprendimento che vuol dire anche riflettere su cosa non sta andando oppure riflettere su che cosa si è imparato non dico chissà quali strutture autovalutative e quindi apriamo questa seconda parte proprio dicendo la DAD è più difficile per l'autovalutazione ma diventa ancora più cruciale quindi Paola riparti dalla DAD dell'anno scorso tirando fuori che cosa a cosa è servita quell'esperienza negativa sotto mille profili ma da cui cerchiamo di tirar fuori qualcosa di buono ecco cerchiamo di tirar fuori qualcosa di buono a partire dall'autovalutazione e anche qua vi voglio portare così come esempio un mio tentativo di autovalutazione attraverso uno strumento che era quello di fare dei colloqui adesso cercherò di spiegarmi meglio l'anno scorso avevo una classe quinta eravamo nel pieno di un secondo quadrimestre straordinario era la fine di un percorso di cinque anni insieme e un percorso che ahimè avevamo capito che sarebbe terminato così a distanza uno dei bisogni che da subito ho avuto era quello di tenere monitorato il processo d'apprendimento anche a distanza e volevo che il processo d'apprendimento venisse monitorato non solo attraverso gli elaborati che i bambini mi mandavano attraverso le mail a cui rispondevano ma anche attraverso un momento sperimentando così un momento individuale di colloquio per raccogliere delle tracce in modo particolare l'anno scorso e qui vi ho trascritto un esempio l'anno scorso ho strutturato questi colloqui erano due colloqui per bambino ad aprile questi qua vedete documentati due colloqui di aprile e di giugno nella quale avevamo avevamo strutturato con le colleghe di classe una traccia di colloquio provando a fare a tutti le stesse domande erano colloqui organizzati su meet quindi a livello proprio pratico erano dei colloqui appunto organizzati su meet dando ad ogni bambino un massimo di dieci minuti quindi non c'era tantissimo tempo e in questo caso mi sembrava importante chiedere a loro di ragionare su tre aspetti da una parte come stanno lavorando cioè di provare a farsi un momento di esame di coscienza come dire un momento di valutazione in cui da soli provano a pensare a esplicitare come stanno lavorando nei momenti sincroni quindi durante le video che erano quotidianamente ma anche nei momenti di attività sincrona quindi di tutto tutto quello che lasciavo come lavoro da fare in autonomia durante la settimana c'era l'aspetto dei suggerimenti ecco che qua mi sembrava importante restituire loro la fiducia che c'era nei loro confronti che era parte del nostro modo di lavorare perché la mia progettazione potesse partire da dei loro suggerimenti chiedendo a loro qualche attività che volevano fare e questo tipo di domande servivano anche a me per poter vedere di questi cinque anni che cosa era rimasto quali frutti eravamo arrivati a poter raccogliere e anche l'aspetto degli argomenti da approfondire proprio perché la loro motivazione volevo che non venisse meno qua c'è un esempio di trascrizione questa è proprio una registrazione trascritta poi di questo colloquio a grandi linee ecco ho trascritto alcuni aspetti cruciali del colloquio dove questo bambino ad esempio riconosce di avere lavorato molto bene durante le video lezioni di intervenire parecchio ma di riconoscere anche che ad esempio quando io consegnavo delle attività e poi assegnavo loro del lavoro da fare a casa c'era una gran fatica nel consegnarmi lavori nei tempi richiesti mi restituiva una fatica ad organizzarsi rispetto a quello che stava facendo e poi mi faceva delle richieste c'era un desiderio di poter fare più lezioni insieme dedicavamo fin troppo poco tempo secondo lui a dei momenti sincroni e poi facevano delle proposte ad esempio più tematiche rispetto a geografia se notate c'è un passaggio nel secondo quadrimestre scusate al fine anno quindi un secondo momento di Dund dove riconosce ancora alcune fatiche soprattutto in alcune materie dove era molto faticoso fare attività che venivano proposte per lui e in particolare mi stava dando delle informazioni importanti rispetto alle difficoltà di ascolto dei video che venivano proposti ecco questo era un primo un esempio dove alcune tracce di autovalutazione venivano attraverso un colloquio veramente una tu per tu una chiacchierata fatta con ognuno di loro organizzata durante la DAD per poter parlare a tu per tu con ognuno di loro lascio la parola a Barbara e Franco su questo ma lascerei do lo stimolo torno pure indietro do la parola Barbara perché leggendo anche no vuoi proprio su prima esatto leggendo il Padret no proprio sui colloqui di Quinta ecco qua rispetto a questi perché credo che a posteriori tu hai raccontato di come questo sia stato un momento formativo per te come insegnante cioè forse all'inizio dicevi non avevo colto che dentro quella colloquio così importante per la relazione in realtà si nascondevano degli elementi cruciali dal punto di vista della valutazione descrittiva e formativa nella differenza l'ha fatta banalmente il fatto che tu l'hai documentato è vero che torna al problema del tempo però credo che sia diciamo l'elemento un pochino cruciale in tutto questo però Barbara lascerei a te la parola sotto la documentazione se ti sembra che sia così utile soffermarsi brevemente non ti sentiamo? io credo che sia interessabile questa riflessione che stavate facendo e sicuramente il tema del tempo rientra però io non mi inserirei adesso e proverai ad andare avanti ancora un pezzetto perfetto facciamo dopo va bene allora ti lasciamo parola ecco che allora l'apprendimento quindi come stavano dicendo Franco e Barbara davvero questo percorso è stato un momento di apprendimento per me personale come insegnante e quindi che cosa che cosa volevo portarmi avanti cioè che cosa volevo portare anche in questo nuovo ciclo quindi con questa nuova prima la ricchezza di quei momenti erano momenti che mi avevano lasciato tanto dato tanto e quindi mi sembrava fondamentale poterli riproporre e allora davvero mi è sembrato mi sembrava importante pensare ad esempio che con la scorsa quinta questo tipo di lavoro era stato fatto ed era stato sperimentato in modo molto concentrato nel secondo quadrimestre della quinta avevamo avuto momenti di autovalutazione e di riflessione personale anche prima ma non così strutturati e non così significativi come in questo secondo quadrimestre allora nei buoni propositi nell'estate c'era stato bene ma io devo abituare questi miei nuovi alunni all'autovalutazione accompagnandoli via via in un momento ad esempio in momenti individuali anche qua tornano le perplessità e allora le perplessità di insegnanti erano bene ma dove trovo il tempo ecco devo trovare dei momenti di ritagli di tempo preziosi proprio perché ho toccato con mano come quei momenti di autovalutazione e di colloqui autovalutativi mi avevano lasciato davvero moltissimo ed erano serviti molto i miei alunni ecco che allora avevo provato a fare una cosa analoga qui mi ero impratichita nello strumento se vogliamo dal punto di vista della documentazione provando a fare un primo colloquio con i bambini a novembre appena prima dei colloqui con i loro genitori proponendo a loro e qui vedete così in modo sparpagliato degli esempi tre domande quindi anche qua c'era una traccia di colloquio condivisa con le colleghe dove con queste tre domande mi sembrava mi sembrava di poterli far calare diretti direttamente all'interno della della loro valutazione quindi rispetto a questi primi mesi che cosa pensano di aver imparato in che cosa ancora gli sembra di fare molta fatica di fare ancora fatica e che cosa a cosa cosa gli piacerebbe imparare presto come notate ad esempio nel primo esempio la terza domanda non tutti hanno risposto a questa terza domanda qualcuno non ha risposto alla seconda adesso qua non ci sono degli esempi ma c'è qualcuno che che non ha che non ha saputo dire che fatiche in che cosa faceva ancora fatica però anche qua in questo caso mi sono sembrati degli strumenti mi è sembrato questo uno strumento fondamentale a livello pratico ho ricontrollato perché avevo delle registrazioni audio di questi colloqui la durata media di questi colloqui brevissimi era di tre minuti quindi davvero a livello di tempo erano ancora meno tempo rispetto ai colloqui che avete visto prima e sono stati fatti proprio ve lo dico sinceramente durante delle attività quindi chiamavo i bambini alla lavagna in momenti di attività in autonomia e li chiamavo durante la settimana per poter rispondere a queste domande queste schedine pre-stampate mi aiutavano a documentare più velocemente quello che mi interessava documentare e tenere così traccia dei loro percorsi su questo scusami se ti interrompo Paola perché effettivamente stiamo ragionando anche su un piano di sostenibilità di tempo mi sembra che le tre domande che ovviamente avevamo già condiviso in realtà ovviamente si prestano per un utilizzo diversificato cioè nei colloqui però i colloqui devono avere un senso cioè anche perché organizzativamente serve molto tempo anche se dici che si faceva in fretta però per come sono formulate effettivamente possono costituire quelle che chiamavamo prima delle sorte di routine di pensiero cioè periodicamente sono tre domande che possono tornare non dico sempre in ogni verifica per diversificare anche gli strumenti autovalutativi ma che possono tornare utili per abituare questo ragionamento le prime volte magari non verrà fuori molto ma raccogliendo poco per volta restituendo i bambini ragionando su quello che hanno scritto sicuramente aiutiamo a sviluppare questa competenza e si prestano effettivamente magari in una prima e in una seconda è più complesso ma una terza quarta quinta in forma scritta credo che anche nella tua esperienza sia molto semplice anche da dare soprattutto le prime due cosa mi piace a imparare interessante perché apre tutto il discorso sulla progettazione ma adesso forse le prime due sono quelle che a noi in questo momento sono più utili per il ragionamento che stiamo facendo su come consento al bambino di capire cosa sta imparando i contenuti e le difficoltà che sta trovando quindi le modalità di apprendimento su cui noi invece vogliamo supportare ma infatti io tornerei Paola su questa domanda del in che cosa mi sembra di fare fatica perché sappiamo che il comunicare è una criticità o l'interfacciarsi con un alunno che fa fatica e che quindi insomma bisogna farsene qualcosa e trovare un modo per dirlo da un lato mi metto nei panni dell'insegnante e stavo leggendo ora un post sul Padlet effettivamente può essere che il bambino che sta facendo fatica spesso non è consapevole della ragione per cui la sta facendo su che cosa la sta facendo e questi esattamente questo aspetto più rutinario che ha introdotto anche franco quindi un'abitudine e un provare insieme non solo occasionalmente ma proponendolo in diverse situazioni magari effettivamente ma con una certa frequenza effettivamente va ad agire proprio sulla costruzione di consapevolezza perché questo è un altro dei passaggi sui quali noi lavoriamo con loro non possiamo darlo come prerequisito il fatto che loro lo sappiano sappiano riconoscere la fatica effettivamente sappiano scriverla perché anche solo nominarla è un inizio il capire dov'è la criticità perché poi il passaggio successivo è una volta riconosciuta la criticità con quali sono le strategie di cui mi posso dotare o ci possiamo dotare perché effettivamente in questo si rivede un'ottica dialogica tra l'insegnante e il bambino che quindi viene fatto partecipare a questo momento di valutazione e questo secondo me è il valore aggiunto effettivamente dell'autovalutazione il raccogliere il suo punto di vista considerarlo come partecipe a questo momento e mi sembra una prospettiva interessante però Paula non so se vuoi dirci anche uno spaccato da insegnante su questa dimensione del chiedere in che cosa hai fatto fatico o magari se ti sono capitate delle situazioni che qualcuno non ce la faceva e magari è stato più supportato o vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto a questo esempio penso che potrebbe essere interessante poi passare ai colloqui successivi mi fermerei però soltanto su un aspetto pratico rispetto a quanto da me da insegnante era stato utilissimo avere questa traccia del colloquio cioè a livello documentativo poter avermi avere pensato prima a una traccia quindi a quelle domande le domande da proporre erano quelle erano sempre quelle se volete ingabbiava un po' i colloqui ma mi faceva tenere più il controllo del tempo pensando sempre al tanto tempo perché avere tanti alunni porta ad avere fatica poi nel poter documentare tutto quello che accade dall'altra parte per mettere a fuoco con ognuno degli aspetti anche in modo diverso l'aspetto della fatica ad esempio cosa mi sembra di fare fatica per chi era molto difficile quindi in questo primo colloquio ad esempio avevo scelto di lasciar correre cioè in alcuni momenti ho provato a spingere facciano delle domande sempre più precise ma arrivato a un certo punto vedevo che non c'era ancora la capacità di poterlo fare e quindi lasciavo che la risposta non veniva e dando la possibilità di dire che se ti verrà in mente me lo dirai questa struttura di colloqui quindi di questo dialogo quindi Barbara tu prima dicevi in questo momento di dialogico con gli insegnanti quindi una valutazione dialogica mi è sembrata vincente con questo con questo gruppo ecco perché allora ho riproposto anche adesso questi colloqui vedete qua è documentato a ieri per cui è una documentazione freschissima rispetto a una traccia e se pensate ho ripreso proprio ripreso in mano la traccia dello scorso anno della DAD anche qua mi sembrava importante chiedere come sta andando questo lavoro da casa come sta funzionando in che cosa ti sembra di fare un po' fatica e qua la fatica torna che cosa ti piacerebbe fare insieme o hai qualche consiglio per noi maestre ecco mi sono sembrati dei momenti veramente fondamentali io qua vi ho riportato in giallo sotto vedete la trascrizione dei miei appunti fatti al volo ieri ero meno organizzata non avevo le schedine pronte ahimè mi sono mancate per cui poi abbiamo detto con le colleghe che le avremmo preparate per i prossimi giorni perché sono state molto più comode per documentare però ecco alcuni aspetti mi sono sembrati fondamentali ad esempio in questo caso questa bambina dice mi manca la scuola i miei compagni le maestre faccio fatica a scrivere il diario di bordo io sto chiedendo a loro di fare questo diario a casa il pomeriggio e alcune parole non mi ricordo bene come scriverle faccio fatica ancora un po' a leggere i video del corsivo mi servono per scrivere meglio a volte durante le lezioni mi distrago quando parlano tutti i miei compagni insieme non capisco più niente vorrei fare dei quadri un po' delle opere d'arte facendo riferimento a delle attività che facevamo insieme in classe ecco a un certo punto qua non lo vedete ma vi riporto un altro colloquio di ieri dove a un certo punto alla mia domanda in cosa ti sembra di fare un po' fatica la bambina non rispondeva allora io ho provato a dire bene ma prova a pensare rispetto a quello che facciamo insieme o a quello che vi chiedo di fare da soli ad esempio nel leggere nello scrivere in cosa ti sembra di fare ancora un po' fatica la risposta è stata nello scrivere e allora lì si fermava per cui ho provato a continuare accompagnandola dicendo ok dello scrivere ma cosa nello scrivere delle lettere oppure delle parole che non ti vengono e lei mi ha risposto così mi ha risposto ci sono dei suoni che dico ma che non so ancora bene come scrivere ecco che la fatica è venuta fuori è venuta fuori accompagnata ecco non dimentichiamo che appunto siamo in una prima e quindi questo accompagnamento è più che necessario in questo lo dico ma lo dico a me stessa perché ogni tanto come Barbara e Franco mi fanno notare ho ancora dal punto di vista del colloquio ma soprattutto dell'autovalutazione la taratura rispetto alla classe quinta e quindi ogni tanto dimentico un po' che invece sono tornata indietro da questo punto di vista di cinque anni però su questo l'accompagnamento è fondamentale ma scusa se ti interrompo Paola e proverei tra l'altro a saltare qualche slide andare due o tre slide più avanti su un esempio di autovalutazione quello iniziale esattamente però rispetto a quello che dici Paola rido perché abbiamo analizzato le domande e alcune effettivamente ragionando assieme ci sembravano difficili per i bambini di prima ma alcuni hanno anche risposto quindi dipende ma come è come se hai incorporato nella tua professionalità l'idea di farli autovalutare e non è qualcosa di secondario non è una competenza che noi possiamo avere o non avere e lo dico perché scrive nel Padlet come facciamo non abbiamo tempo 40 minuti ma noi siamo chiamati a farli autovalutare cioè paradossalmente è più utile che loro si autovalutino rispetto a che noi spieghiamo per chissà quanto tempo gli facciamo fare chissà quante cose e non lo dico io ma nelle linee guida nel dire che la funzione della valutazione descrittiva è quella formativa significa che noi dobbiamo metterli nelle condizioni anche in DAD di farli autovalutare c'è poco tempo vorrà dire che quel poco tempo dovremo trovare dei momenti per farli autovalutare dei colloqui delle attività di gruppo una discussione in grande gruppo una piccola cosa scritta come questa ma se non lo facciamo non stiamo consentendo loro di sviluppare la capacità per cui siamo chiamati a lavorare che è quella che loro imparino ad autovalutarsi dico questo perché so che è difficile in questi tempi così complessi pensare a autovalutazione ma davvero è forse l'elemento imprescindibile di questa riforma venendo invece agli esempi di autovalutazione abbiamo provato a raggruppare una sorta di di nuovo esempi graduali di livelli questo è un livello molto iniziale dico iniziale rispetto alle competenze anche nostre professionali cioè il fatto di chiedere un bambino mi autovaluto come consegna che cosa attiviamo in termini di ragionamenti metacognitivi forse un po' poco a meno che non ci sia una grande abitudine ad autovalutarsi per cui se io gli dico scrivi mi autovaluto è in grado proprio per quell'esperienza e infatti cosa viene scritto secondo me non sono andata né bene né male questa potrebbe essere una qualsiasi richiesta fatta per matematica per scienze per inglese per italiano per storia ma a noi interessa capire da insegnanti come poter strutturare anche delle domande scritte orali che attivano quel ragionamento questa diciamo che attiva molto molto poco passerei a quella dopo magari lasciate la parola Barbara così le commentiamo questa attiva molto poco però ci piaceva provare a mostrare appunto oltre da un lato ai colloqui che sono una possibilità eh ok anche delle altre possibilità spesso ci chiedete degli esempi diversificati ecco anche solo mettere in circolo questa parola del fatto che si autovalutano e vedere l'effetto che fa anche nel nel disorientamento no che uno non sa poi dove muoversi questo è un brevissimo straccio di di discussione che questa insegnante ha fatto con i suoi bambini in questo caso per esempio spesso per autovalutarsi si utilizza un mediatore iconico cioè alle volte gli chiediamo di colorare o rispetto a una soddisfazione o quanto ti sembra facile o difficile di colorare dei disegni in questo caso lei aveva scelto di far colorare loro dei razzi e qui in questo caso ha fatto colorare il razzo uno può decidere è come il commento di prima uno può decidere di fermarsi lì no oppure magari chiedergli vi ricordate che cosa abbiamo fatto qui ecco c'è chiesto di colorare i razzi e proviamo a vedere anche come loro hanno che cosa loro si sono portati a casa di quel lavoro perché magari noi abbiamo pensato di di fare tutto in un determinato modo ma effettivamente loro che cosa si sono portati a casa e lei chiede che cosa abbiamo fatto qui abbiamo colorato i razzi per dire se il lavoro era migliore o no abbiamo colorato i pallini dei razzi per dire se siamo stati bravi o no ho imparato era un lavoro di inglese ho imparato i colori in inglese e a colorare in tanti modi a proposito di questa coloritura che all'occorrenza può diventare effettivamente che può ritornare ma come hai fatto ad imparare queste cose abbiamo ripetuto insieme tante canzoncine poi tutti insieme i colori e anche io li dicevo ad alta voce e anche qui è stato facile o difficile facile perché? perché era divertente e le abbiamo detti tutti insieme anche in questo caso ritorno a un pezzettino in più io inizio a chiederti come hai trovato questo lavoro sempre in quell'ottica di andare nel monitorare anche una criticità o una difficoltà facile o difficile e tu mi dici facile e allora proviamo insieme ad aggiungere un pezzetto poi magari anche fermandomi qui per questa volta e poi magari lo possiamo riprendere un pezzettino più avanti su questo è interessante scusami tornerai a quello prima perché la qualità delle domande sono un po' delle domande simili a quelle che abbiamo visto in forma scritta la prima domanda è proviamo a ricostruire il processo di apprendimento proviamo a descrivere cosa abbiamo fatto se ripensiamo a quel feedback iniziale in cui Paola aveva nel suo commento descrittivo ricostruito il processo qui è un po' la stessa cosa ma la grande differenza è che non stiamo dicendo noi ai bambini cosa abbiamo fatto ma lo stiamo chiedendo a loro in più in gruppo e anche in Dada si può fare 5 minuti 10 minuti proviamo a chiedere cosa abbiamo fatto oggi cosa abbiamo fatto ieri e ascoltare quello che dicono prendendone nota se si riesce se si riesce ovvio non potremmo farlo sempre certo che no però vediamo la domanda successiva prima è vi ricordate cosa abbiamo fatto li rimettiamo nella testa dell'attività e mettiamo in sequenza i diversi passaggi solo dopo chiediamo come hai fatto imparare che è una domanda molto più complessa e dopo è stato difficile cioè prima c'è stata necessità di fare una domanda di contestualizzazione dove li abbiamo aiutati a ripercorrere i vari passaggi quindi in poche battute in realtà c'è una grande competenza diciamo autovalutativa o di promozione dell'autovalutazione dell'insegnante passerei a quella dopo che è molto è un'attività molto semplice anche qui per ragionare cose che necessitano di poco tempo abbiamo detto l'autovalutazione come routine di pensiero come qualcosa che con strumenti diversi noi facciamo fare sempre cosa so e cosa so fare dei post-it che possono essere un padlet trasposto in dad che abbiamo sempre lì ogni settimana rispetto a un'attività ogni due settimane chiedere cosa so rispetto a questo cosa so fare e come vediamo cosa so i verbi le analisi grammaticale i colori dei contenuti cosa so ovviamente fa riferimento più a delle conoscenze a degli elementi concettuali contenutistici cosa so fare rimanda un'idea di competenza cioè come uso quelle conoscenze scrivere testi inventare poesie disegnare qui siamo in una classe sicuramente basta chiedere questo in una quarta in una quinta vuol dire magari scrivere anche dei testi un pochino più articolati ma passerei dopo ecco questo è un esempio di un'attività autovalutativa fatta al termine di una prova di grammatica in una classe quinta la prova di grammatica è i raggettivi e i pronomi interessante è che sono cinque domande molto complesse ma che sono state costruite con dei bambini che per un quadrimestre in quinta in precedenza non erano abituati a lavorare sull'autovalutazione quindi in un quadrimestre alla fine del quadrimestre partendo da alcuni alcuni attività iniziali sono riusciti a maturare a sviluppare una capacità l'autovalutativa e a condurre un momento di discussione assieme all'insegnante dove hanno scelto delle domande guida che gli aiutassero non solo in questa verifica ma un po' come traccia da avere sempre sotto mano per autovalutarsi in alcune verifiche principali ovvio non sempre e provando a vedere molto velocemente queste domande ci accorgiamo di come siano complesse ma anche diversificate la prima domanda è più un feedback rispetto anche all'insegnante le consegne sono espresse in modo chiaro da un lato è un feedback per l'insegnante ma dall'altro aiuta il bambino a capire se ha compreso bene se l'elemento della comprensione della consegna che è cruciale è stato messo a fuoco il secondo è l'elemento dell'autonomia su cui già Paola ha molto insistito e come sappiamo è una competenza cruciale da sviluppare costantemente quindi è per questo che vediamo continuamente esempi sull'autonomia le difficoltà hai avuto difficoltà come le hai superate e qui siamo in quinta e leggendo anche il padre vedevo che c'erano alcune domande che non solo sono relative a difficoltà ma a quali sono le strategie che hai messo in atto per superarle che ovviamente è un piano metacognitivo più alto un conto è chiedere che difficoltà hai avuto come le domande per i bimbi di prima un conto per dei ragazzini anche di quinta è bene se queste sono difficoltà cosa pensi di aver fatto per averle per superare infine l'ultima domanda in realtà apre ad una questione chiave e lo dico anche in vista del prossimo webinar che sarà diciamo sul documento finale di valutazione sulla pagella sulla comunicazione con le famiglie ma anche su un'idea diciamo alla fine del quadrimestre a fine dell'anno di cosa faccio nel documento finale ma come aiuti i bambini a ripercorrere interamente il percorso di apprendimento e questa domanda va un po' in quest'ottica come dire prova adesso non tanto a pensare a questa singola attività ma al tuo percorso dell'ultimo quadrimestre hai visto delle evoluzioni di cambiamenti hai rilevato dei miglioramenti quindi è una domanda autovalutativa che però presuppone un pensiero molto più esteso cioè la considerazione di uno sguardo più ampio però non ci soffermiamo su questo per non andare oltre ti lascerei parola a Barbara ah no scusami o Paola per tornare sul registro no beh io finirei questo pezzettino vedendo come quest'ultimo esempio che hai detto rispetto al miglioramento del lavoro per qualsiasi materio o disciplina si pensi a matematica rispetto ad esempio alle operazioni che magari vengono costantemente date quindi su cui si può tornare nel tempo e ragionare insieme a loro i miglioramenti oppure le criticità che emergono oppure non so penso a dire come rispetto all'acquisizione dei nuovi vocaboli quindi un lavoro sui vocaboli ecco ragionare insieme sui miglioramenti del lavoro individuale nel tempo mostrando loro più prove dello stesso tipo ragionando insieme a loro e questo si può fare davvero fin da subito fin dalla classe prima io l'ho provato a fare in alcune attività e ho detto che è funzionato per far toccare con mano loro il cambiamento ma su questo Paola infatti anche sul padre torna molto questa idea di mettere in circolazione il pensiero autovolutativo cioè far sì che la classe divenga una comunità di apprendimento e in DAD è più difficile ma è ancora più necessario perché sono tutti nelle loro case cioè di trovare dei momenti magari in piccolo gruppo in cui ragionare assieme su quello che si è imparato proverei allora già arrivare al punto finale ma che è il punto di partenza cioè ma allora cosa mettere nel registro elettronico noi siamo partiti dal dire proviamo a capire che cosa è significativo Barbara ci diceva magari ci sono alcune attività per cui effettivamente vale la pena spendere del tempo costruire dei giudizi descrittivi dei feedback articolati da mettere sul quaderno e allora lì sì che prendo e metto nel registro elettronico non sempre ma ti lascio a parola Paola per vedere un po' la tua soluzione ecco ma questa è una soluzione è un tentativo premetto che appunto sono tutte prove in questa serata ve l'ho detto già più volte è un mio percorso di avvicinamento al giudizio descrittivo e allora ho provato ad adattare anche quello che il mio registro mi dava l'opportunità di fare per cui scegliendo di optare per dare un commento pubblico a tutti gli alunni uguali rispetto all'attività come dicevo prima era necessario descrivere il tipo di attività la consegna soffermare la consegna soffermarsi sulla consegna ma poi scegliere di selezionare uno degli obiettivi riguardanti la disciplina e in questo caso se io vi ho riportato qui l'esempio proprio della lettura di quella comprensione sul pupazzo di neve dove appunto in questo caso l'italiano mi premeva appunto valutare come obiettivo il padroneggiare la lettura strumentale ed ecco che qua io non ho fatto altro che riportare come voto numerico un trattino quindi abolendo in questo senso il voto numerico ma per poter salvare in quanto in questo momento il mio registro non mi dà la possibilità di non mettere non mi dava l'opportunità di mettere un voto numerico per cui io ho messo un trattino per non mettere nessun voto numerico e all'interno del commento per ogni alunno ho inserito nel commento pubblico quindi nel commento che andrà alla famiglia e al bambino il commento che era nel quaderno mentre invece nel commento privato quindi nel commento che rimane a me insegnante ho provato da quel commento poter estrapolare da quel tipo di prova estrapolare alcune delle categorie se volete molto simili a quello che è legato poi alla strutturazione dei livelli dei quattro livelli pensando a quali delle categorie che presenti nella strutturazione dei livelli erano presenti in quel tipo di prova quindi ad esempio in quel caso mi sono annotata che la tipologia di prova era una prova non nota in quanto appunto la lettura era una lettura a prima vista e mai sentita prima ed era un tipo di lavoro non noto a loro c'era un aspetto di autonomia e in questo caso ad esempio ho sottolineato che questo bambino ha chiesto più volte la mia conferma e che in generale rispetto a quel tipo di obiettivo che avevo scelto il compito era stato portato a termine tenendo presente che c'era un'autonomia ancora da supportare ecco questo questo mi sembrava una soluzione ci saranno sicuramente soluzioni molto più pratiche e via via prenderemo devo dire sempre più domestichezza con questo con questa situazione anche con una chiarezza rispetto al registro con le famiglie ecco io in assemblea di classe avevo chiarito con le famiglie che in questo momento stavamo facendo dei tentativi e che questi tentativi saranno sempre più precisi e sempre più utili anche grazie a un loro feedback quindi ho chiesto loro di restituirmi un loro un loro parere rispetto a questo tipo di valutazione e a questo tipo di riscontri non tutto viene commentato così come in questo momento ad esempio pensavo potesse essere necessario sul registro monitorare alcuni momenti di DAD rispetto ad esempio a alcuni aspetti come dicevo prima ad esempio rispetto all'autonomia rispetto alla partecipazione nelle attività in grande gruppo dove vengono richieste loro alcune indicazioni di lavoro e che posso comunque tenere monitorato vi lascio la parola Franco e Barbara dovrei fare una sintesi ad avviarmi verso una una sintesi di quanto di quanto è emerso anche un po' ripercorrendo le tappe no? Paola l'ha fatto molto concretamente abbiamo aperto col registro abbiamo provato a chiudere col registro per farvi vedere effettivamente come questa dimensione da un lato del feedback che l'insegnante costruisce e dai bambini e dall'altra parte dell'autovalutazione possano essere messi in dialogo anche con questo strumento quindi come feedback e autovalutazione in realtà possono avere qualcosa a che fare con il registro anzi potenzialmente a partire dal mio feedback posso compilare il registro quindi utilizzo un lavoro che mi ha richiesto fatica e mi ha richiesto tempo ma me lo gioco anche da quel punto di vista effettivamente come tenere traccia di una valutazione e quindi recupero proprio questa circolarità che abbia provato a mettere luce in questo incontro tra quello che l'insegnante restituisce quindi una prima dimensione di feedback che diventa la modalità per aprire questo dialogo aprendo lo spazio all'autovalutazione del bambino quindi io inizio a restituirti quello che io sto vedendo su alcuni punti molto contestuali abbiamo detto effettivamente sul feedback che via via cerca di andare a guardare un pezzo molto specifico quindi diventa contestualizzato e focalizzato ok e mette anche in luce un aspetto se volete migliorativo che però è come se mettessi nelle mani del bambino quindi questo è quello che io sto vedendo e che ti rilancio per cui ti do parola a questo punto questo è quello che io vedo adesso dimmi che cosa vedi tu da questo punto di vista quindi una circolarità tra feedback e autovalutazione e l'altra cosa che speriamo di essere riusciti a raggiungere è mettere in evidenza la ricchezza di informazioni che anche una semplicissima autovalutazione in realtà nasconde e quindi mi viene da dire a maggior ragione in questo periodo più volte l'ha detto Franco è una dimensione che potrebbe essere potenziata giusto ieri sera stavo parlando con un gruppo di insegnanti che effettivamente preoccupati come tutti i commenti che leggo sul Padlet di questo ritorno alla DAD mi dicevano che effettivamente sono terrorizzati dalla paura che i loro bambini non imparino ecco allora io mi dicevo che effettivamente costa attenzione alla quali strumenti oio per capire se effettivamente stanno imparando in questo senso oggi ci siamo detti possiamo iniziare anche a chiedere loro che cosa stanno imparando quindi a dare voce a loro per provare anche con loro a monitorare questi apprendimenti che effettivamente stanno accadendo comunque in modo diverso non nel modo che ci saremmo auspicati assolutamente e speriamo di poter tornare in presenza il prima possibile però a maggior ragione in questo momento il punto è cercare di strutturare il più possibile questo monitoraggio nei modi diversificati che avete visto o attraverso un colloquio o attraverso un semplice post-it o attraverso una semplice frase scritta l'altra cosa che ci siamo detti però con una ripresa anche e con una frequenza rispetto a una pratica che ritorna quindi cercando di andare in un'ottica di abbastanza rutinaria per costruire quella consapevolezza di cui dicevamo prima le altre due cose che mi sembravano interessanti da rilanciare sull'autovalutazione è effettivamente questa apertura al dialogo e alla partecipazione dei bambini e quindi permettermi di incontrarli effettivamente nel punto in cui sono e quindi non arrivare catalogando d'accordo ma effettivamente trovarli secondo quella che è il loro percorso di apprendimento quindi questo mi sembra un altro grande valore rispetto all'autovalutazione non so se Franco e Paola volevano aggiungere qualcosa ma non aggiungerei altro per rispettare i tempi almeno io e chiedo alla regia intanto di rendermi relatore e Paola non so se vuoi aggiungere tu qualcosa no rispetto ad alcune richieste che sono state fatte sul Padlet aggiungerei ad esempio una delle richieste era come monitorare l'autonomia in DAD è sicuramente un aspetto molto complicato però mi viene da dire che questa sera vi abbiamo dato modo di toccare con mano alcuni strumenti ad esempio chiedendo a loro chiedendo loro come lavorano ma anche attivandoli in attività mi viene da dire dialogiche dove la loro autonomia la possiamo toccare con mano nel poter rispondere a quello che chiediamo monitorando anche i cambiamenti monitorando e chiedendo loro di darci traccia di come stanno lavorando a casa quando noi non ci siamo ecco in questa fiducia che si può creare accompagnando in questo anche le famiglie penso appunto ai bambini più piccoli di come ci sia un'educazione anche all'accompagnamento anche per le famiglie di cui in questo momento ci stiamo comunque come insegnanti facendo carico più che per un anno Paola proprio su questo non abbiamo ancora la data ma ve la comunicheremo ad aprile ci sarà il terzo webinar del nostro percorso proprio come diciamo prima sulla comunicazione alle famiglie sul documento finale partendo proprio da qui anche dalla costruzione dei feedback lascio la parola a Barbara per la presentazione del percorso formativo invece non di carattere webinar ideale ma invece lavoratoriale dove vorremmo raccogliere ciò che state facendo e analizzarlo assieme così in gruppo prego Barbara sì esatto abbiamo pensato di affiancare diciamo questo tipo di formazione più webinariale a un percorso un po' più strutturato e abbiamo pensato di proporvi questi due percorsi dal titolo la valutazione descrittiva alla scuola primaria percorso di formazione lavoratoriale che sono attualmente disponibili sulla piattaforma Sofia li trovate già disponibili volevo raccontarvi brevemente come abbiamo pensato di strutturarli si tratta di tre incontri quindi per un totale di otto ore abbiamo pensato trovate già all'interno della piattaforma questi due calendari ok le proposte sono identiche cambiano rispetto alle giornate il tempo che abbiamo deciso di dedicare appunto dopo la giornata scolastica quindi dopo le quattro e mezza e si tratta di incontri che si svolgeranno da remoto e avranno più o meno abbiamo provato a dare questa struttura che in parte ricalca anche la struttura che abbiamo tenuto all'interno dei webinar quindi un primo incontro che riguarderà più la parte della definizione degli obiettivi al monitoraggio nelle prove nella documentazione didattica una seconda parte più dedicata alla valutazione periodica e all'autovalutazione degli studenti e un terzo incontro invece che proverà a tematizzare la questione della comunicazione della valutazione quindi riprendendo un po' alcune delle tematiche che sono già stati trattate oggi rispetto al feedback a registro elettronico per approdare a quello che è il documento di valutazione finale trovate come vi dicevo già le due proposte in piattaforma e all'interno di queste slide riuscite a recuperare anche gli ID per recuperarle ma banalmente se digitate il titolo della proposta riuscite a trovarlo agilmente all'interno delle schede che sono state caricate in piattaforma trovate tutti i contatti utili e li ritrovate anche alla fine di questa presentazione per chi di voi conosce la piattaforma Sofia sa che ogni scheda può essere diciamo ampliata tramite questi due tasti sul tasto approfondisci trovate tutte quelle informazioni di carattere tecnico che però sono assolutamente preziose specialmente in questo periodo quindi le informazioni legate al calendario da un lato e legate alle modalità di pagamento sapete che potete tranquillamente pagare anche con carta docente questi corsi d'accordo e trovate tutta la descrizione di come si può procedere e con il pagamento carta docente e con attraverso invece il bonifico mentre per la parte per tutte le domande esattamente per tutte le domande trovate tutti questi come contatti utili quindi la mia mail quella di Franco ma anche Bicocca con le scuole e Info Sofia che è effettivamente la mail a cui poter poter fare riferimento per tutte delle questioni più relative al pagamento aggiungerei Barbara scusami il costo è di 40 euro sì il costo è di 40 euro e quello che si chiede all'interno di questo percorso in realtà non l'abbiamo messo nella slide ma effettivamente quando parliamo di formazione laboratoriale chiederemmo a chi si scrive di essere diciamo di essere desideroso anche di mettersi in gioco quindi magari di provare a sperimentare alcune delle suggestioni che verranno proposte all'interno degli incontri perché effettivamente gli incontri successivi si moduleranno e verranno costruiti anche sulla base sull'analisi di quelle che sono le sperimentazioni che si mettono in campo esatto ci sarà un tetto massimo di iscritti proprio per preservare questa dimensione laboratoriale e noi vi chiederemo appunto come diceva Barbara da un incontro all'altro di documentare alcuni momenti specifici della valutazione in modo da darvi anche un feedback non solo durante il secondo incontro il terzo incontro ma anche a distanza attraverso una piattaforma in cui condividere i materiali quindi abbiamo pensato questo perché dopo il primo webinar ci sono arrivate moltissime richieste di formazione che non potevamo diciamo non potevamo rispondere unicamente dai webinar perché erano richieste proprio più di accompagnamento come vediamo i webinar hanno una funzione più di così approfondimento di alcuni temi ma molto diverso invece è analizzare le nostre pratiche condividerle ricevere un feedback metterle a disposizione degli altri e quindi a partire un po' da queste richieste abbiamo scelto di proporre questi due percorsi in chiusura dico Barbara rispetto ai prossimi appuntamenti effettivamente avremo un webinar sul documento finale sulla comunicazione con le famiglie nello stesso incontro ma anche un webinar invece relativo alla dimensione all'impatto di carattere più psicologico diciamo adesso ancora di scuola a distanza organizzato assieme a psicologi e psicoterapeuti vi arriverà una comunicazione via mail con la data e il link questi webinar ovviamente sono gratuiti fanno parte di questa proposta invece questa formazione ci siamo sentiti un po' di progettarla per via delle tante richieste che sono arrivate e a cui volevamo così fornire un supporto quindi potremmo chiudere non so se lasciamo parola alla professoressa Nigris Elisabetta per i saluti finali no io volevo solo salutare non dico nient'altro perché ho ascoltato con molto molto piacere è stato interessante questo dialogo e quindi buon lavoro a tutti mandateci tutte le domande vi chiederei per i dubbi di scrivere soprattutto a Bicocca con le scuole e anche per mandare domande richieste quella la mail mandate tutto lì noi vi rispondiamo se posso aggiungere in chiusura un'ultimissima cosa c'è qualcuno che sul Padlet ha detto forse in questo momento dovremmo scrivere anche noi rispetto a quello che ci avete detto che cosa abbiamo imparato come abbiamo imparato e su che cosa abbiamo fatto fatica se vi va di condividere queste riflessioni effettivamente potete mandare una mail a Bicocca con le scuole anche dandoci un feedback su questo e sicuramente verrà letto e insomma valorizzato anche nei prossimi incontri questo è il più bel regalo che ci potevate fare bene buona serata a tutti grazie 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 grazie